bentornati ad un nuovo episodio di gong 10 minuti con round 2 anche questo a tema tgs anzi sarà l'episodio in cui vi racconteremo un po le nostre impressioni generali sulla fiera di tokyo e sui giochi che si sono potuti provare sullo show floor sì allora premessa secondo me doverosa è stato la mia prima volta in assoluto nel senso che io non ero mai stato in giappone e quindi di conseguenza mai stato a questa fiera che un tempo godeva di un blasone pari alle tre se non forse in alcuni anni addirittura superiore negli anni 90 nel senso che qua tante volte hanno presentato delle console hanno fatto veramente vedere delle anteprime incredibili ed è una fiera diciamo particolare un'edizione che credo segni comunque un trend positivo nel senso che negli ultimi arriverai a dire quasi decenni però c'è nell'ultimo decennio però diciamo negli ultimi anni c'era stato un tramonto di questo evento che è e rimane comunque profondamente giappocentrico ma che sembrerebbe rialzare la testa con una serie di annunci e di anteprime esclusive su tutte playstation vr 2 per la prima volta messo nelle mani della stampa e soprattutto del pubblico perché poi questo in realtà è un evento aperto a chiunque che secondo me hanno connotato un'edizione del tgs magari non memorabile per i nostri standard però per quello a cui ci aveva abituato la manifestazione comunque da tenere assolutamente d'occhio sì guarda visto che l'hai citato faccio proprio un rapidissimo excursus storico il tgs in effetti era un evento veramente imperdibile e incredibile ai tempi soprattutto di playstation 1 e playstation 2 anche perché a quell'epoca lì l'industria trainante era quella giapponese nel corso della generazione tra i 60 ps3 ha avuto un calo progressivo perdendo spazio rispetto sia alle 3 ma lo voglio dire secondo me anche altri eventi come la game developers conference di san francisco che in qualche anno insomma era aveva portato qualche novità importante legata anche proprio al primo playstation sì sì assolutamente poi nel momento in cui è arrivata ps4 aveva rialzato un po la testa forse perché ps4 era proprio espressione di una sony che tornava a essere molto giapponese anche nella direzione nelle scelte comunicative creative produttive sai cosa fra anche aveva avuto molta secondo me eco la parentesi del gaming mobile cioè che aveva stravolto il tgs tantissimi enunci di roba mobile che non arrivava qui e che di conseguenza al di là dei nostri gusti proprio anche personali poco avvezzi a quel mondo lì lo rendevano di di minor rilevanza per chi non vive sì forse è vero sai la progressiva perdita di forza delle console portatili tradizionali nei confronti dei cellulari lo aveva indirizzato verso una una via che in realtà poi quest'anno essendo lì non era così tanto presente e anzi aggiungiamo che secondo me a sorpresa almeno per me c'era una presenza della realtà virtuale in generale molto più consistente che non ad altre fiere cioè siamo freschi di gamescom non abbiamo assolutamente visto una presenza anche proprio fisica così evidente di stand legati alla realtà virtuale c'era un stand gigantesco di meta c'era pico 3 c'era playstation vr 2 cioè sintomo che comunque è ancora di interesse comunque hai ragione questa edizione diciamo dopo gli anni di fermo della pandemia è tornata a essere interessante anche per un pubblico più ampio rispetto a quello giapponese non so che cosa succederà l'anno prossimo perché in qualche modo secondo me l'assenza di un e3 classico sostituito da una summer game fest che era veramente infinitesimale un pochino ha giocato a favore il tgs vediamo se l'anno prossimo con il ritorno delle tre le cose resteranno così o cambieranno in generale però c'è da dire che a differenza degli eventi europei americani anche a livello di gestione di vivibilità e soprattutto di rapporto con la stampa il tgs è un altro mondo è un mondo molto peggiore perché veramente è difficilissimo ottenere degli appuntamenti quasi non ci sono in realtà degli appuntamenti a porte chiuse si contano veramente sulle dita di una mano quindi tutti i membri della stampa devono andare a fare delle file interminabili in delle postazioni cioè in dei padiglioni che sono pensati per meravigliare il grande pubblico quindi hanno anche degli allestimenti estremamente scenici ma poi hanno un numero di postazioni di gioco veramente irrisorio e quindi per farti 15 minuti di forespoken e street fighter devi farti anche 40 50 minuti anche molto più un'ora e mezza tranquillamente di coda ed è una coda che non puoi schippare cioè non hai un appuntamento non hai modo di arrivare il primo giorno di rima senti se torno tra tre giorni addirittura da casa prima di partire no e diciamo che questo è sicuramente uno scoglio che ti trovi in faccia in maniera abbastanza brutale una volta che ti trovi qui io personalmente ti dico sono stato abbastanza sorpreso delle dimensioni del tgs nel senso che ripeto ero vergine da questo punto di vista e mi aspettavo magari i primi due giorni che sono quelli dedicati alla stampa in cui però diciamolo entra veramente un po chiunque con un numero di partecipanti più basso e invece mi immaginavo che poi la fiera in sé potesse essere ben più consistente in termini di presenza del pubblico quello vero e invece pare che nei momenti in cui poi il pubblico arriva se va bene raddoppia ma in realtà nemmeno quello ma si capisce anche proprio dalle dimensioni degli stand come dicevi tu le postazioni non sono così tante cioè non è la gamescom di colonia e il problema grosso è che già un'organizzazione così particolare l'impressione che ai giapponesi piaccia proprio l'idea di fare le file probabilmente senza scherzare per un'idea che anche quel tempo ha investito in qualcosa di valore cioè se tutti sono lì in coda vuol dire che quella è una figata succede anche non so vai in un ristorante diciamo se sono tutti lì vuol dire che posso aspettare perché poi ci sarà la ricompensa e però c'è si avverte fortissimo uno scoglio e una proprio una distanza culturale anche nei modi di porsi nel senso che è comunque una fiera che parla al mercato giapponese ma in cui esiste una presenza certamente maggioritaria ma comunque consistente percepibile di persone che vengono dall'occidente come noi e che non sono però messe a loro agio quasi in nessuna misura cioè ti rimbalzano fanno finta di non capirti non ti capiscono davvero pochissimi parlanti inglesi pochissimi parlanti inglesi e quelli che lo sono sono governati da questo rispetto per le regole alla giapponese che da un lato è sicuramente lodevole molto diverso magari dalla mentalità nostra ma che a volte lo voglio dire con rispetto si traduce in ottusità nel senso che capita che da giusto per farvi un esempio ci sia playstation vr 2 in prova per la prima volta nello stand di capcom con resident evil village le postazioni sono aperte nel senso che sono proprio delle stanze dove tu puoi passare e vedere la gente che gioca nel quarto d'ora in cui giochi puoi vedere persone comunque mai da troppo vicino con playstation vr in testa te lo fanno togliere lo nascondono nascondono l'unità dietro un banchetto lo puliscono lo rimettono sul banchetto stesso per fartelo indossare altro quarto d'ora poi di nuovo togli nascondilo c'è proprio c'è un nomino o più di uno che passava a nascondere dalla vista psv era e addirittura serie in file volevi fargli una foto per fare una storia su instagram un contenuto eccetera non te lo facevano fare perché no cioè capisci che così facendo le premesse sono quanto meno bizzarre ecco però alla fine comunque ci siamo portati a casa un po di anteprime abbiamo giocato per esempio a wolong abbiamo giocato a forspoken abbiamo giocato a like dragon ishinkiwami il nome devo fermarmi sempre un attimo prima di dirlo ogni volta che lo dici dico cazzo che bravo io non lo sarei mai ricordato e insomma di tutti questi titoli vi parleremo nel dettaglio sul nostro canale youtube con delle video anteprime chiacchierate di circa un quarto d'ora quindi per le impressioni più concrete vi rimandiamo lì in questa puntata di gong invece vogliamo parlare del playstation vr che tu citavi e poi scegliere un paio di giochi a testa da raccontarvi partiamo proprio dall'hardware di sony per la realtà virtuale che a me ha colpito estremamente in maniera estremamente positiva perché l'ho trovato un hardware anche molto piacevole nel form factor un'ottima ergonomia il caschetto si posiziona sulla testa non pesa sulla parte frontale della faccia vabbè i controller ormai sono diciamo in linea con il form factor di quelli ideati da oculus meta insomma però complessivamente veramente un bell'oggetto e poi quando te lo metti addosso complice un po' l'eye tracking che va impostato all'inizio della sessione di gioco complici gli schermi oled con una risoluzione molto più alta del playstation vr 1 beh ti fa un grande effetto come la come un salto generazionale per chi era abituato al playstation vr 1 forse insomma anche anche più di un salto generazionale annullato completamente o quasi il motion sickness e qualche dettaglio in più come per esempio il feedback aptico sul caschetto che comunque riesce a impreziosire l'esperienza utente sì in generale c'è un abisso vero e proprio rispetto a playstation vr originale che impallidisce in tutto e per tutto con questo invito magari chi dovesse aver avuto esperienze non super positive con la prima versione del dell'hardware a riprovarci perché qua si parla proprio di qualcosa di diverso in termini proprio prestazionali in generale secondo me è stata un'esperienza positiva e positiva alla luce del fatto di averti fatto provare una demo di resident evil village opportunamente rivista fermo restando che non è un gioco nativo per la vr e in alcuni casi si vedeva però ristrutturata diciamo in modo da dare sfoggio delle potenzialità del visore e secondo me il fatto che abbiano scelto di far provare a chiunque a un pubblico anche molto eterogeneo fatto di stampa giapponese sicuramente molto in là con gli anni di persone più più giovani ma in generale di avvezzi e non alla vr con un gioco in cui c'era il movimento quasi totalmente libero nel senso che con l'analogico di sinistra muovevi le gambe del personaggio con quello di destra orientavi il busto diciamo di 30 gradi in 30 gradi più o meno ecco è un'esperienza questa solitamente molto invasiva e che è un po' propensa a scatenare la kinetosi motion sickness qui invece non succedeva e secondo me il fatto di vedere le persone che si toglievano il caschetto dopo tra l'altro un quarto d'ora pieno di demo e non vedevi nessuno leggermente pallidino quei sudori freddi ma anzi nemmeno arrivo a dire segnato con quell'effetto un po' maschera da sub che hai quando indossi quest 2 per isolarti devi stringerlo molto bene questo invece secondo me non è così è testimonianza del fatto che le cose siano state fatte e bene sì 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 l'esperienza utente veramente eccezionale fra l'altro finalmente c'è anche il see through quindi c'è un piccolo tasto sotto il visore che permette appunto di vedere quello che sta attorno a te con una visione in bianco e nero un po' grandangolare ma comunque molto comoda per evitare di sbattere contro gli oggetti comunque per orientarti nella stanza prima che cominci la sessione no e non solo anche durante cioè l'idea è che non ti togli il visore per rispondere al telefono al citofono può spostarti per la stanza e tra l'altro fa questa cosa che è stata introdotta a quest 2 in maniera eccellente la fa con una risoluzione che non sembra un citofono come accade con quest 2 e lì è chiaramente più sostanza che forma qui c'è anche comunque un po' di forma in più la rilevazione dei movimenti dei controller è ottima il cavo c'è ma non dà troppo fastidio è un unico cavo che poi lo connetterà il visore alla console non c'è più bisogno della telecamera quindi veramente un prodotto di qualità l'unico dettaglio che manca oltre ovviamente alla data d'uscita che per ora è indicativamente inizio 2023 è il prezzo e su questo ragazzi io metto le mani avanti mi preparo a prezzi abbastanza sostenuti eh sì sono d'accordo con te fra costerà diverse centinaia di euro e lo scopriremo con poi maggior pressione ai mesi a venire io sono anche molto curioso di capire che tipo di line up avrà perché lo dicevamo prima residente volotto village sicuramente può essere una valida esperienza all'interno di un contesto simile ma mi aspetto poi fuoco e fiamme da sony nell'ultima parte di questa puntata vi abbiamo promesso di scegliere un gioco a testa per insomma eleggere quello che è il nostro personale best of the show a livello software tralasciando appunto psvr 2 che è un hardware vai marco comincia tu io non posso che menzionare street fighter 6 che è un gioco di cui abbiamo parlato già anche proprio all'interno di gong oltre che ovviamente una video anteprima dedicata nel corso del summer game fest lo avevamo provato in anteprima assoluta los angeles ci abbiamo rimesso le mani sopra un paio di mesi dopo ma passa il tempo e l'ho trovato veramente in forma smagliante e se possibile ancora più rifinito ancora più tecnico ancora più godibile ancora più reattivo cioè un gioco che istantaneamente parla al tuo dna di giocatore senza essere un super prodo di picchiaduro io non lo sono affatto e secondo me questa sua qualità innegabile e percepibile proprio all'istante è qualcosa di speciale qualcosa di unico ho fatto l'esempio prima delle persone che si toglievano playstation vr 2 e non avevano gli svarioni ecco qui quando vedevi esaurirsi il quarto d'ora proprio canonico con tanto di cronometro di sessione vedevi la gente che a parte la dovevi staccare col cric dal controller o dall'arcade stick ma con dei sorrisi genuini a testimonianza di una qualità anche proprio audiovisiva secondo me molto molto sopra lo standard io credo che capcom abbia per le mani un un mezzo tesoro come se non se ne vedevano proprio da tempo e quindi grande attesa per capire anche quando debutterà il gioco che sembra proprio una figata pazzesca anche chiudo con poi un trailer d'accompagnamento recuperatelo che strizza l'occhio street fighter 2 con il ritorno dei personaggi iconici da blanca zanghi fdalsi eccetera però invecchiati anche nel corso degli anni che secondo me per chi come magari noi oramai ha qualche primavera sulle spalle anche a livello di nostalgia ma proprio di iconografia secondo me è prezioso se dovessi scegliere io invece un titolo che più mi ha colpito in questo tgs vabbè fermo restando che le impressioni su street fighter sono ampiamente condivise e neppure io sono un fan dei picchiaduro punterai il dito su wolong fallen dynasty che in realtà potete provare anche voi perché per qualche altro giorno è disponibile una demo pubblica con una sezione in realtà differente rispetto a quella che si poteva giocare sullo show floor però mi ha fatto veramente una bella impressione non sapevo esattamente che cosa aspettarmi da questa nuova avventura di tecmo koei lo descriverei come un niho che incontra sekiro ovviamente il gioco lo lascia intendere il nome è ispirato poi alla cultura e la mitologia cinesi fra l'altro con un sistema di potenziamento del personaggio legato proprio agli elementi dell'oroscopo cinese e insomma arrivati sul campo di battaglia si riscopre un gameplay secondo me estremamente piacevole molto tecnico fra l'altro con un sistema di parate che permettono di deflettere i colpi avversari che richiede un ottimo tempismo e qualche apertura in più allo stealth di sekiro alla gestione dell'equilibrio che qui è un po' diversa rispetto al titolo front software ma secondo me comunque efficace ovviamente non è una novità su tutti i fronti perché insomma anche solo descriverlo citando altri prodotti fa capire che si tratta di un gioco comunque sia a suo modo derivativo però secondo me è un buon take su quello che potremmo definire il macrocosmo dei souls like anche perché elimina anche un po' meno souls like del previsto sì sì sono d'accordo è un action secondo me molto dinamico come sekiro alla fine come sekiro sì sì qui addirittura secondo me si elimina pure il concetto di corpse run che cos'è quella meccanica di game quando muori hai un tentativo per salvare recuperarsi le tue anime qui non c'è non si perde nessuna risorsa di quelle accumulate ma invece si cambia un po' la morale la tempra del protagonista e degli avversari fra l'altro con una meccanica su cui poi entreremo nel dettaglio sul canale youtube che però in qualche maniera si intreccia anche con l'esplorazione perché è possibile poi trovare dei segreti delle strade secondarie con dei delle zone in cui stare una bandiera per migliorare la propria tempra quindi conquistare un po' la mappa di gioco quindi per me veramente un gioco di valore anche visivamente ovviamente contatto preliminare con la demo quindi tutto da valutare poi bilanciamento sulla lunga distanza level design durata boss fight però secondo me si sono viste delle cose estremamente positive grazie per averci ascoltato in questa ricca ricchissima puntata di gong dedicata al tgs ci siamo presi qualche momento in più perché dobbiamo farci perdonare di tutto quello che non abbiamo fatto in queste settimane in questi giorni dai però ovviamente vi ricordiamo di lasciarci una recensione se vi piace quello che ascoltate ma soprattutto più che mai di venirci a trovare su nostro canale twitch perché le dirette da tokyo continuano per ancora tutta questa settimana e se vi va vi portiamo con noi a spasso per la capitale giapponese ciao